Sì ragazzi come avrete potuto capire dal titolo di questo video questi saranno gli ultimi 100 secondi con chi mererevo gestiti dal sottoscritto Non vi voglio annoiare raccontandovi tutte le vicende che mi sono accadute Per chi fosse interessato lascio il link al mio profilo Google Plus dove è presente un post che spiega un po' meglio la situazione Ma questi ultimi 100 secondi purtroppo sono anche poveri di news In effetti in questa settimana non ci sono state grandissime novità degne di essere raccontate in questa puntata Colgo quindi l'occasione per ringraziare tutto lo staff di chi mererevo che per più di un anno mi ha aiutato, mi è stato vicino e mi ha permesso di portare avanti questo piccolo progetto che andava in onda una volta alla settimana In effetti dopo queste 50 passapuntate, dopo 50 passassettimane qualcosa dentro di me resterà per sempre Infatti questa avventura è stata davvero molto molto coinvolgente e soprattutto mi ha permesso di farmi un'esperienza davvero incredibile Ovviamente io vi invito a continuare a seguire chi mererevo, uno dei pochi siti dove ci sono persone veramente qualificate che ci mettono una volontà esagerata Per quanto riguarda invece i 100 secondi con chi mererevo o comunque il format che va in onda ogni domenica Ho sentito che ci saranno degli sviluppi ma purtroppo non posso dire altro anche perché non so proprio cosa dire Perciò come tutti voi anche io sarò curioso di vedere quale nuova rubrica su youtube avrà da offrirci il sito Ma non voglio tirarla ancora più lunga, le cose da dirvi ve le ho dette Perciò non mi resta che ringraziarvi dell'attenzione che mi avete prestato per questo anno passato insieme E detto questo non vi rubo altro tempo, io vi auguro una buona settimana e ci si vede in giro per youtube Ciao ragazzi!